È stato affermato che Kate, la duchessa di Cambridge e il principe William si sono goduti due settimane su un'isola di proprietà del principe Carlo, un indizio che il duca e la duchessa di Cambridge avevano trascorso alcuni giorni in vacanza sulle spiagge sabbiose con il principe George, la principessa Charlotte e il principe Lewis è stato fornito a fine luglio, quando Kensington Palace ha pubblicato una foto per celebrare il nono compleanno del terzo in linea al trono. Nello scatto scattato da Kate, il ragazzo sorridente sta chiaramente su una spiaggia. Seppur sfocato, le precedenti vacanze dei Cambridge nell'isola privata caraibica di Mustic potrebbero aver portato alcuni osservatori reali a pensare che questa foto sia stata scattata durante una pausa attraverso L'Atlantico. Tuttavia, l'editore del diario di Mail on Sunday, Emily Prescott, ha affermato che George, Charlotte, Lewis e i loro genitori si sono diretti a metà luglio a Tresco, una piccola isola dell'arcipelago delle Scilli. La minuscola isola fa parte del ducato di Cornovaglia e quindi di proprietà del principe Carlo. Tuttavia, è attualmente affittato da Robert. Dorin Smith e sua moglie Lucy che gestiscono la Tresco estate, la signora Prescott ha scritto, la famiglia ha trascorso due settimane sull'isola pedonale di proprietà del principe Carlo. Viaggiando in elicottero, si pensa che i Cambridge e il loro spaniel, Orla, abbiano soggiornato a Dolphin House, un'accogliente canonica di granito in un giardino recintato. Un video che ha iniziato a circolare sulle piattaforme dei social media il 13 luglio sembrava mostrare un elicottero in decollo da Kensington Palace dopo essere salito a bordo dei Cambridge e del loro adorabile cane nero. Tresco è raggiungibile solo via aerea o via mare ed è interamente pedonale. Un'accogliente Grazie a tutti. Grazie a tutti.